allora ragazzi vi presento un'altra associazione che collabora con vivi venzone vivi lo sport vivi l'emozione vi presento alessandro che è il presidente dell'associazione scuola kayak friuli esattamente che ci racconterà un po la storia di questa scuola e poi anche l'esperienza che c'è stata oggi esatto noi siamo praticamente la sezione canoa del centro universitario sportivo di udine e facciamo corsi di kayak corsi di canoa e attività con i gommoni di pack rafting da pack rafting i gommoni sono piccoli gommoncini da rafting che permettono di scendere i fiumi in assoluta sicurezza e ognuno porta il suo gommoncino quindi a differenza dei gommoni grandi su cui si è tutti assieme si scende singolarmente ma in gruppo noi accompagniamo sempre i gruppi con meno un istruttore ogni 45 persone quindi in questo bellissimo evento abbiamo coinvolto un po tutti i ragazzi del nostro staff stiamo facendo delle discese un po ripetizione perché ne faremo quattro al giorno sia oggi che domani e niente il fiume oggi è splendido molto divertente la pioggia di questi giorni ha mantenuto il livello di acqua molto buono una raccomandazione che facciamo sempre a chi si approccia al tagliamento alfella insomma i nostri fiumi fatevi sempre accompagnare da una guida è un piccolo investimento però con l'acqua non si scherza per cui è molto divertente se li godiamo tutti sono una risorsa un patrimonio che abbiamo che hanno in pochi posti al mondo belli come i nostri e così quindi buona acqua a tutti buone discese e ci vediamo in acqua